Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la pagina informativa di Tre Padova 7 Gold, lo spazio dell'approfondimento con 7 in punto e poi nel corso della giornata le nostre edizioni dei telegiornali. Quest'oggi parliamo di una serie di eventi, non un evento soltanto, di cui abbiamo accennato già qualche giorno fa all'interno del nostro notiziario, ovvero delle settimane musicali al Teatro Olimpico, ma di una domenica particolare che attende Vicenza ed è domenica prossima, la domenica del movie. Cosa sia il movie? Lo chiediamo direttamente alla nostra ospite questa mattina, bentrovata Sonnig e Ciacarian. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi e per poter parlare, siamo ben felici anche quest'anno in questa terza edizione, di ricordare un po' tutto, anche se, cosa dice, partiamo dalle settimane musicali prima. Va bene, volentieri. Un attimino, quindi spieghiamo bene allora di cosa si tratta. Beh, le settimane musicali sono un festival che è arrivato alla sua ventisettesima edizione, direttore artistico Giovanni Battista Rigon e io seguo la programmazione da qualche anno della musica da camera e quindi dei concerti della musica da camera, perché il festival si divide tra opera e musica da camera e quindi insomma si svolgerà nelle primi tre weekend di giugno, venerdì, sabato e domenica, quindi per tre settimane venerdì e domenica ci sarà l'opera e i tre sabati tre concerti molto diversi tra loro, mentre l'opera l'inganno felice replica sempre la stessa opera. Abbiamo mezz'ora, quindi poi parleremo nel dettaglio di tutti quanti gli eventi che ci sono all'interno. Va bene, e poi in anteprima festival c'è i movie il 20 maggio, che è questa domenica, musica a Vicenza, questa domenica nel centro storico della città, lungo la passeggiata di Corso Palladio e diciamo dalle 11 del mattino fino più o meno alle 18, tutti i luoghi, molti luoghi bellissimi che il comune ci ha dato e il comune ci ospita in questa cosa, risuoneranno, risuoneranno di musica, di tanti tipi di musica diverse, di tanti strumenti, tante formazioni, anche stili e contaminazioni varie e per cui l'idea è quella di essere fra la gente, diciamo le persone passeggiano una domenica a Vicenza e sentono suonare e si avvicinano forse un po' per curiosità, chi per curiosità, chi per passione e quindi il nostro desiderio è accogliere le persone, potranno sedersi, alzarsi, muoversi, spostarsi, scegliere, insomma divertirsi liberamente in modo molto informale ma con una, secondo me, a mio avviso con una qualità artistica comunque altissima. Perché questo è proprio il discrimine, se vogliamo, proprio la scelta della qualità per questi artisti giovani e meno giovani? Eh beh sì, certamente, beh quello è importante sempre, per cui anche al Malmovie, beh intanto c'è un'attenzione particolare per i giovani e quindi abbiamo tra i migliori giovani adesso al giorno d'oggi presenti in Italia, grazie alla collaborazione col Conservatorio di Vicenza, con i corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con l'Associazione Musica con Leali che sostiene giovani italiani esordienti, bravissimi, li sostiene in Italia, li promuove in Italia all'estero. Quindi c'è una parte di movie in cui la presenza giovanile è importante e un'altra parte in cui ci sono artisti in carriera da molti anni che altrettanto si prestano, diciamo, fra virgolette, a questa giornata di festa, veramente, in compagnia. E di contaminazione, diceva musicale, la ricerca è proprio quella di trovare più generi possibili da proporre? Sì, beh, diciamo, la parola contaminazione a me non piace molto, mi è un po' sfuggita, però diciamo generi musicali diversi, abbiamo anche il jazz, abbiamo anche il ballo, cioè diciamo le danze che nel nostro caso quest'anno sono le danze rinascimentali e barocche e quindi partono comunque per noi musicisti sempre da un repertorio tradizionale, quindi parliamo di minuetti, di giga, strabano, insomma tutte queste cose che si sentono suonare spesso ma non si vedono mai danzare ma in realtà erano danzate e hanno, come posso dire, delle regole molto precise e quindi quest'anno ci saranno queste danze e l'idea è quella di coinvolgere il pubblico, voglio dire, insomma, potranno provare i passi di minueto eccetera eccetera e spero sia molto interessante. Quindi c'è questa ulteriore apertura. Ci diceva cinque sedi e ogni sede più o meno di quelle che sono state scelte e proposte dal comune hanno poi un impiego, diciamo, un'attitudine diversa una dall'altra. Come sono un po' distribuite? Cominciamo proprio dal teatro olimpico. In Odeo del teatro olimpico abbiamo violino pianoforte la mattina e il pomeriggio aria ed opera con il cast dell'Inganno Felice, la presentazione di un disco con Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, uno degli ultimi loro dischi su Rachmaninoff. Poi abbiamo Palazzo Leone Montanari, il cortile del palazzo si presta molto ad un ascolto più riservato. Ne abbiamo un trio d'archi e due violini solisti, due violine solo, quindi un carattere completamente diverso. Palazzo Chiericati, il porticato di Palazzo Chiericati abbiamo un quartetto di viola la mattina e il pomeriggio il jazz, diciamo, con i balli anni 20-30 e poi invece le danze rinascimentali barocche. Palazzo Tristino, il cortile di Palazzo Tristino, anche lì abbiamo quartetto, quintetto la mattina e il pomeriggio sempre quartetto e quintetto che però accompagnano concerti di grandi solisti, di violini e violoncello, quindi una trascrizione veramente cameristica, abbastanza inusuale, difficile da ascoltare e alla fine la loggia del Capitaniato, abbiamo un pianoforte anche lì, dal mattino alle 11 fino alle 17, formazione di trio, di musica da camera, pianoforte a quattro mani e solisti, pianisti e solisti, quindi insomma c'è veramente molto. Da scegliere, quindi anche, come diceva all'inizio, è importante anche risottolineare il fatto appunto di chi volesse appunto assistere a questa anche libertà di scelta insomma complessiva. Sì, certo perché è molto informale diciamo la partecipazione, ma non disattenta naturalmente, le persone possono camminare, alzarsi, sedersi, spostarsi, cogliere quello che più piace, anche perché comunque ci sono molte cose in contemporanea, per cui tutto non si potrà seguire, ma essendo poi il centro storico abbastanza raccolto come il luogo, insomma facendo pochi passi ci si sposta agevolmente, insomma speriamo sarà una bella festa, soprattutto perché a me insomma l'idea è nata per il piacere di stare veramente con la musica fra la gente, vorrei che le persone venissero anche ai concerti, le persone da 0 a 100 anni voglio dire, con l'idea veramente di star bene, perché la musica ci fa star bene e quindi insomma stare anche fra le persone credo possa aiutare magari qualcuno che non è mai stato a un concerto e magari scopre che in realtà gli piace. Siamo alla terza edizione, si diceva, per i movie, nei tre anni adesso capiremo il terzo come andrà, si spera appunto bene, l'offerta certamente è molto interessante, ha avuto una buona crescita nel tempo, qualcosa che in qualche modo, è questa la sua dimensione o può addirittura in qualche modo essere pensato in maniera più ampia? Beh, allora più ampio di così è difficile perché la proposta musicale è molto intensa, più di una giornata non si può fare, il livello artistico è molto alto, riuscire a organizzare tutte queste persone nella stessa giornata è molto complicato, non è facile, le aspettative in città sono molte perché ormai è diventato un appuntamento, molti chiedono, molti sanno che arriverà e quindi insomma questo è già un risultato importante per noi, noi siamo molto contenti. Vedendo appunto poi questa evoluzione, come c'è l'evoluzione anche delle settimane musicali al Teatro Olimpico, qui la storia se vogliamo appunto è più lunga da raccontare, parte qui ma parte ugualmente con un percorso che poi si è consolidato nel tempo. Sì, beh, questa è la ventisettesima edizione, quindi insomma veramente importante per noi. Storia. Storia, sì sì, beh insomma siamo onorati, devo dire, di essere ancora qui e che il pubblico ancora e la città ci accolga perché non è facile e quindi diciamo poi il festival è nato, all'inizio era una sola settimana, poi sono diventate più settimane, all'inizio era solo musica da camera, adesso da molti anni c'è anche l'opera, quindi insomma la proposta si è molto arricchita, quindi opera, musica da camera, movie, concerti, c'è il progetto Giovani, ci sono, che è un altro progetto che si svolge anche qui con i primi di concorsi, anche internazionali, che si svolge sempre a Palazzo Leoni Montanari, quindi ci sono tre serate, per cui il livello è molto alto anche dei giovani. C'è il concorso Brunelli che il festival promuove, che è un nostro amico, è stato Lamberto Brunelli, è mancato un po' di anni fa, ma è stato un nostro amico prima di tutto, è sostenitore del festival, quindi in sua memoria questo concorso da tanti anni. Insomma, poi ci sono le conversazioni, prima dei concerti, prima dell'opera, ci sono state presentazioni di libri, insomma, tante idee, tante cose, abbiamo sempre voglia di parlarne insieme con le persone di musica e di iniziative sempre nuove. Negli anni, diciamo, si è confermato a Vicenza tutto questo, è stato più difficile proporre, in un momento in cui, diciamo, è più difficile con l'amministrazione in particolare poter avere anche molto spesso dialogo e sostegno per questa iniziativa. Beh, insomma, il festival comunque ha una tradizione che ormai nella città è riconosciuta e di questo siamo grati. Chiaramente, diciamo, il periodo storico in generale non aiuta, bisogna purtroppo sempre fare i conti con le risorse, è chiaro che non è facile gestire il tutto. Però, diciamo, beh, noi facciamo un lavoro, non so se si possa chiamare lavoro il nostro, perché noi suoniamo, ci divertiamo, studiamo molto, eh, non è che sia una cosa improvvisata, però abbiamo una gratificazione tale che non tutti i lavori, non tutte le persone hanno nel lavoro, lo dico forse con presunzione, non lo so. Perché sempre la passione è prima del lavoro. Beh, insomma, è una cosa veramente speciale, che poi più passa il tempo, negli anni più ci gratifica, insomma. Per cui, comunque, è un lavorare nella bellezza, per cui, insomma, a volte, poi, quando arrivi lì, suoni, ti trovi, a parte in questo teatro meraviglioso che è un posto unico al mondo, con dei colleghi fantastici, musica eccezionale, insomma, tutti i pensieri se ne vanno. Licenza si presta molto a questo tipo di iniziative? Sì, sì, beh, sì, certo, è un gioiello, è un gioiello, quindi, insomma, tutto viene valorizzato e anche, comunque, insomma, ci sono delle aspettative importanti, ci sono molte proposte importanti, è una città ricca, culturalmente curiosa, sì, ha sempre avuto persone curiose, per cui, insomma... Un terreno fertile, insomma, per poter proporre... Sì, 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 lo è sicuramente. Di questo tipo. Parlavamo, allora, del... dicevamo, direttore artistico Giovanni Battista Rigon, lei è responsabile del progetto per la musica da camera, oltre che del movie. Musica da camera. Sì. Opre la musica da camera, quindi due filoni, per quanto riguarda la musica da camera, tre concerti in particolare sono previsti. Sì, tre concerti molto diversi tra loro. Il 2 giugno apriamo con... beh, ritorno a Shlomo Menz, che è un violinista, fa parte del del mito violinistico, era stato con noi fine anni, forse vent'anni fa, può essere, ed era venuto quella volta come violista, avevamo fatto quartetto di Schumann, adesso mi ricordo, e quest'anno invece viene come violinista e con Silvia Chiesa, Alfredo Zamarra, Silvia Chiesa, violoncellista, Alfredo Zamarra, violista, e con me sempre, allora il programma si divide... siccome la caratteristica del nostro festival è quello di non essere una società di concerti, cioè noi non accogliamo delle proposte, ma le creiamo per il nostro festival, per cui anche questi programmi di solito non si trovano in giro, o raramente capita di replicarli in altri posti, per cui hanno una loro unicità che li rende ancora più speciali, secondo me, e quindi in questa occasione per il 2 giugno facciamo la prima parte, due duo molto particolari, violino e violoncello, Menz Chiesa, il duo di Codali, violino e viola, Martino in Madrigali, per cui siamo in un mondo molto interessante, molto virtuosistico, con dei colori particolarissimi, per poi chiudere tutti e quattro insieme con il quartetto delle Dissonanze, che è uno dei capisaldi dei quartetti della storia della musica, quindi rientriamo nell'ordine, ma insomma, quindi dei fascini completamente diversi di sonorità e di emozioni. Il secondo concerto, il 9 giugno, Terre di Neiri, che sono le antiche terre d'Armenia, le mie origini, sono sempre più vicina, insomma, a questa ricerca e mi appassiona molto. Quest'anno Parole e Suoni d'Armenia, con Paolo Chessisoglu, che forse non tutti sanno che è di origini armene, e quindi con Stefania Redelli al pianoforte, per cui è un viaggio tra... non parleremo di genocidio, ecco, sarà invece una bella compagnia insieme tra poesia, poesia di Varujan, racconti di Saroyan, quindi molto ironici, molto spiritosi, sull'essere armeno, eccetera, eccetera, e musiche che vanno da Comitas, quindi il padre Comitas, che ai primi del Novecento aveva raccolto tutti i canti antichi che i pastori cantavano, passavano oralmente, non erano scritti, diciamo, e quindi lui li ha tutti raccolti, li ha catalogati, insomma, quindi musiche sue, insomma, musiche della tradizione popolare e musica accolta, quindi con Baba Giagnan, Caciaturiana, eccetera, quindi molto articolata come serata. Ecco, una parentesi su questo, appunto, l'intervento di Chessisoglu, a questo punto di vista, è una novità o voi avete già lavorato in passato? No, è il primo progetto che facciamo insieme, quindi un battesimo, sì, 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 è la prima volta, sì. Piaciuta come moso? Lui è proprio molto carino, molto attento, molto spiritoso, è molto curioso, insomma, è una persona interessante e quindi non è la prima serata armena che faccio all'interno del festival. Era stata musicale prettamente in precedenza o anche in quel caso con letture? Avevamo fatto, no, con letture no, ma con i balli, avevamo messo anche dei balli armeni in quel caso, quindi musiche popolari, era venuto il Duduk, avevamo un grandissimo strumentista armenio in questo senso, quindi era diverso, ma non c'era la parola, diciamo, non c'era la voce, c'era solo la musica. Altro aspetto di novità, insomma, che è stato inserito. Sì, esatto. Sabato 16 giugno c'è il terzo, invece? L'ultimo concerto, effetto Mozart, perché è iniziato già l'anno scorso, ma poi continuerà nei prossimi anni questo effetto Mozart. Allora, il concerto in sé è la seconda serata dell'integrale dei concerti per violino orchestra, con l'orchestra di Padova e del Veneto, con la quale lavoriamo da tanti anni, è il nostro ospite regolare. Perché faccio questo integrale dei concerti di Mozart? Perché, vabbè, i concerti di Mozart per violino si sentono tanto e non ci si stanca mai di ascoltarli, prima di tutto. Ma poi anche perché Giovanni Sollima, che è un violoncionista straordinario, un compositore straordinario così, mi ha scritto le cadenze per questi concerti. Le cadenze sono quella parte libera in cui una volta il solista improvvisava, cioè Mozart se lo suonava, lo improvvisava la cadenza. Io non sono un'improvvisatrice, non sono capace. Giovanni Sollima lo è, oltre a essere un grande strumentista, e quindi mi ha scritto queste cadenze che, devo dire, sono meravigliose, perché dalla Sicilia e dalla sua Sicilia vanno, insomma, girano tutta l'Europa, però con un rigore, devo dire, mozzartiano importante. Quindi nella regola, ma nella libertà più totale. Sempre col violino solo o anche con violino orchestra, quindi anche questa caratteristica rende la cosa abbastanza interessante. nuova e comunque è nuova, perché siamo ancora solo noi che facciamo queste cadenze. Uso una parola che ho scoperto non le piace molto, contaminazione. Libertà è contaminazione a questo punto di vista? Cioè poter esprimersi liberamente? Ma contaminazione non so esattamente cosa voglio dire. Libertà, secondo me, vuol dire accogliere, accogliere, essere, ripeto, Giovanni Sollima è un siciliano, quindi la Sicilia è stata in grado di raccogliere tutto il mondo mediterraneo, non solo, e lui lo è anche. E quindi è capacità di cogliere tutti gli stili, in qualche modo infilarli dentro con un piccolo riferimento o anche non troppo nascosto come riferimento. Quindi, secondo me, la grandezza delle persone, come anche di Mozart ai suoi tempi, era quella di accogliere e di andare oltre poi, naturalmente. e quindi sono persone straordinarie. Effetto Mozart perché si dice, e un po' sappiamo anche noi, che insomma ascoltare Mozart, a mio avviso non solo Mozart, ma sono stati fatti degli studi su Mozart, fa star meglio. In qualche modo la nostra reazione emotiva, anche intellettuale, insomma, ha un, come posso dire, acquista uno sprint positivo diverso. E, beh, insomma, noi musicisti siamo i primi a godermi e quindi effetto Mozart mi sembrava una bella comunicazione anche per chi ascolta, insomma. Ovviamente. Insomma, come si diceva, un programma ben distribuito anche, diciamo. Sì, abbastanza vario, con tipologie molto diverse, sì, sì, sì. Spero che sia, che incuriosisca, appunto. In quanto si prepara un programma del genere? Nel senso, ci pensa già, lei è già in testa quello che è la possibilità dell'anno prossimo, oppure in qualche modo nasce e cresce? Beh, dipende. Ci sono delle cose che crescono nel tempo che uno ha già in testa, come il movie, lo avevo già in mente prima di tre anni fa, quando è stata la prima edizione. Altre cose, facendo il programma di anno in anno, ti vengono delle idee nuove, per cui già pensi all'anno prossimo potrei fare questa cosa. È un misto, è un misto di possibilità, insomma. Ci divertiamo. Senza dubbio. La passione che torna sempre alla fine. Sì. Abbiamo parlato di musica da camera, c'è anche la parte dedicata all'opera. Sì, l'opera è L'inganno felice, quest'anno Rossini, direttore artistico Giovanni Battista Rigone, è lui che dirige l'opera e segue tutta la parte di concertazione, di realizzazione del lavoro, del progetto. È un lavoro enorme, naturalmente, quello dell'opera, perché c'è prima il lavoro con il regista, i cantanti, i costumi, l'orchestra, insomma, mettere insieme tutte queste cose non è semplice. E in più il teatro è un luogo che, essendo molto limitato nelle possibilità d'uso, cioè noi sul parco scenico non è che un regista si possa sbizzarrire e mettere chissà che cosa, anzi praticamente nulla. Diciamo che queste regie a Vicenza sono sempre state molto innovative, molto essenziali, molto diverse dal teatro d'opera di tradizione, se lei va nei grandi teatri fenici, o tutti quelli che vuole, insomma, gli allestimenti sono veramente pazzeschi, invece da noi è veramente tutto essenziale. E quindi tutto sommato, secondo me, ha creato anche lì uno stile, una identità importante. Per cui anche per i registi, per esempio, è una sfida non da poco, poter fare una regia all'Olimpico potendo fare quasi niente, praticamente. Non c'è bisogno d'altro, sostanzialmente. Non c'è bisogno d'altro, ma insomma non ci sono grandi cambi di scena o grandi cose, insomma, per cui è una sfida importante anche quella. Stimolante decisamente, insomma, è proprio quello di poter contare solo su quello che poi è l'offerta. Su quello che hai, che è pazzesco quello che hai, però è anche un limite alla fine. Davvero, effettivo. C'è modo adesso, naturalmente appunto nella nostra caccherata, di fare una piccola anche valutazione complessiva di quello che sia l'essere musicista. In un momento come questo, insomma, si è visto in questa organizzazione appunto degli eventi a Vicenza la grande apertura, l'abbraccio, diciamo, di stili diversi, di musicisti giovani, affermati o altro. I musicisti che si avvicinano, soprattutto i più giovani, che momento hanno davanti a loro? Diverso a qualche anno fa? Più difficile? Più così? Ci sono più possibilità o meno, ecco, per un giovane musicista? Allora, io credo che le possibilità siano importanti sempre quando comunque i valori sono importanti. Purtroppo c'è una selezione, come credo, in tutti i campi. Ma come è giusto che sia, naturalmente. Ma come è anche giusto che sia, perché comunque il livello... Allora, diciamo che il livello generale dei giovani musicisti rispetto a vent'anni fa si è alzato. Quindi ce ne sono molti di più e che suonano meglio. E quindi, naturalmente, mentre il lavoro si è ristretto, anche se pensiamo solo alle grandi orchestre che sono state chiuse in Italia, insomma, in realtà adesso, rispetto a una volta, ci sarebbe un gruppo di giovani bravissimi che, insomma, potrebbero fare degli organici importanti e invidiabili sicuramente in tutto il mondo. E quindi in questo senso è un peccato. Certamente però, diciamo, la qualità alta del gruppo migliora anche l'offerta, insomma, che loro danno. E quindi, insomma, alla fine poi comunque anche in Italia ci sono un sacco di anche piccole realtà che comunque sopravvivono, che ci credono e che non perdono l'entusiasmo. Non riescono lo stesso a fare delle cose belle e importanti. Per cui, insomma, poi se un giovane è eclettico, al giorno d'oggi anche deve essere un po' manager di se stesso, come penso in tutte le attività, non solo in quella musicale. Per cui se una persona, oltre alla qualità artistica, deve anche sapersi porre, proporre, porre, insomma, sono richieste molte competenze, diciamo. E quindi non è facile trovare figure così complete. Però devo dire che i ragazzi di bravi ce ne sono veramente tanti. Io insegno a Roma da tanti anni, ai corsi di perfezionamento. Abbiamo anche strumentisti stranieri molto bravi, ma anche italiani molto bravi. E devo dire... E proprio per arrivare, lei che è artista di respiro internazionale, vede gli italiani sostanzialmente in qualche modo pronti, come che accade in altri campi, che l'hai citato prima, anche pronti a emigrare, oppure appunto c'è questa scuola italiana che continua ad avere il suo valore riconosciuto anche all'estero? Guardi, la mia esperienza, devo dire, a parte che la scuola, i corsi di Roma, sono riconosciuti all'estero. Ho avuto dei ragazzi che sono andati a Boston, sono andati a New York, e tra le varie carte che chiedevano era il diploma di Santa Cecilia, era la lettera di presentazione. Quindi questo vuol dire che è molto ben riconosciuto all'estero, e sono tra le scuole di alto perfezionamento, anche all'interno dell'Europa, tra le più importanti. E quindi questo intanto è importante per noi italiani ricordarlo, perché c'è un po' la tendenza a non parlare bene di se stessi, ed è un peccato perché non è questa la realtà. Infatti poi molti dei nostri ragazzi che o vanno all'estero o tornano dall'estero, insomma alla fine in Italia ci starebbero bene, devo dire la verità. sia da un punto di vista didattico che come ambiente culturale, eccetera. Per cui io personalmente penso che a volte l'idea immaginare di vedere la salvezza fuori dall'Italia non sia veramente la strada giusta. Credo sia importante andare fuori dall'Italia per aprire le proprie esperienze, quindi aprire la mente, avere esperienze culturali, perché comunque i musicisti sono musicisti, cioè la musica internazionale è un linguaggio che parla nel mondo. Quindi questo credo sia fondamentale per la crescita artistica. Poi vedo che tanti alla fine anche in Italia ci stanno volentieri, poi ognuno ha la sua storia diversa, per cui non si può generalizzare, ma in Italia comunque l'Italia per la cultura potrebbe essere un grande paese. Indubbiamente. Quattro minuti alla fine, prima di un ripasso generale, ho una domanda personale invece. Quando Sonny Giaccherian si sente più se stessa, più realizzata, quando suona, quando organizza, quando insegna, qual è il momento in cui si sente meglio, ecco diciamo, a fare la sua passione, come ha spiegato prima che, prima corre del lavoro. Ma è difficile separare le cose, molto difficile perché, intanto sono una mamma, e quindi questa è una cosa così che, sì. Viene prima. Beh, è un grande regalo, insomma è una grande cosa, quindi questo. E poi essere musicista insomma si è un po' a 360 gradi, quindi per un musicista, almeno per me, insomma io sono abbastanza cresciuta con il violino in mano, perché non l'ho scelto, ero bambina, avevo il babbo che suonava, appassionato violinista, è un po' per imitazione, sa come fanno i bambini, così mi sono trovata, quindi non l'ho mai scelto che cosa fare da grande. E poi insomma ti trovi che insegni, cresci anche da un punto di vista didattico, perché anche l'insegnamento è una parte, impegnativa, che ha bisogno di un'evoluzione, di un'empatia, si imparano tante cose, però forse alla fine quando suono, rispetto a tutte le cose che lei ha elencato, forse quello è il momento più, così, più misterioso e più gratificante. In assoluto. Sì, forse sì. Grazie anche per questa definizione da parte. Ecco, il tempo allora di ricordare quello che abbiamo raccontato in modo diffuso, e quindi allora gli appuntamenti, innanzitutto le settimane musicali del teatro olimpico, quindi quei tre fini a settimana, o meglio, quei tre sabati. Sì, venerdì, sabato e domenica, il festival, sono tre giorni, venerdì, domenica opera, sabato concerto, dal 2 giugno si inaugura. 2, 9 e 16 giugno, quindi tre appuntamenti. e il 20 maggio il movie. Poi ci sono i concerti del progetto Giovani, anche loro inseriti nei tre weekend del sabato, sempre il sabato, pomeriggio a Palazzo Leone Montanari, e poi ci sono delle conversazioni sia prima dell'opera, sia prima di alcuni concerti. Consigli per i naviganti che vogliano venire a Punto Vicenza, parliamo del movie in questo caso in particolare, quella domenica speciale, cosa conviene, come conviene che si preparino, insomma ad assistere ai vari appuntamenti? Ma in realtà potranno godere di molte cose diverse, anche perché il centro storico di Vicenza è abbastanza piccolo, quindi con pochi passi, nel giro di 3-4 minuti ci si sposta da una sede all'altra, quindi anche se sono in contemporanea moltissimi eventi, uno può anche all'interno di un evento, perché poi comunque insomma sono concerti veri e propri, della durata di mezz'ora, 45 minuti, per cui uno può comunque sedersi, alzarsi, spostarsi, insomma penso, si possa godere di tante cose diverse, scegliere anche con una certa calma, tutto sommato la giornata è lunga. Mentre parlavamo, noi non da anche, grazie ad andare a venire in regia, il vostro sito, quindi settimanemusicali.eu, in modo che tutte le indicazioni... Lo trovate nel sito, tutto il programma dettagliato, e speriamo di vedervi numerosi. Assolutamente. Grazie. In questa proposta è anche tutto, ringraziamo Soniga Ciaccherian, identitrice del Mui, e appunto, tra gli organizzatori, oltre che naturalmente, di uriniste come tutti, la conosciamo. Buona giornata a voi. Grazie, grazie a voi, a presto. E buona giornata anche a voi, come vi dicevo, la giornata di Sategold, prevede i vari appuntamenti informativi, il primo, un TG Flash, poco prima delle 13, e poi via via tutte quante le altre edizioni. Grazie a voi per l'ascolto, si torna domattina, sempre verso le 7. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti.